...disposizione a sette rotini, Daggio, Giorini, Uomar, Riberta, Pescecandria, Vada, Crucirezzo. Buona partita a tutti! Dai Trazzano, dai ragazzi! Dai, dai, dai! Dai, 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 dai! Viva! Dai, dai, dai! Grazie. 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 Allora, niente, sono contento della prestazione dei ragazzi. Risultato molto bugiardo, troppo pesante per la prestazione del campo. I ragazzi sono bravi, hanno fatto una buonissima gara, purtroppo appena noi sbagliamo paghiamo e non siamo bravi magari ancora a castigare le squadre quando sbagliano. Ma comunque in generale è stata una buonissima prestazione da parte dei ragazzi. Non posso dirgli niente, hanno giocato, giocato bene, lottato e andiamo avanti.